Il porto, la Lucchini, la Costa Concordia. Molti sono i fronti sui quali Piombino si gioca il suo futuro. E sul più importante polo siderurgico toscano, uno dei principali d'Italia, pesantemente azzoppato dalla crisi, il Consiglio regionale si è riunito in seduta speciale. Andiamo con ordine. Le acciaierie. Il Presidente Rossi chiede al Governo una politica siderurgica chiara che disegni un ruolo centrale per Piombino. Abbiamo discusso anche a livello nazionale e domani firmeremo un protocollo che prevede una conversione ecologica dell'impianto siderurgico di Piombino e un sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali anche grazie alla rimodulazione del porto su cui stiamo già investendo e alla possibilità di dare lavoro attraverso un impianto di smantellamento delle navi. Adesso noi siamo convinti che bisogna trovare un imprenditore che anche supportato da investimenti pubblici decida di realizzare nel complesso questo piano di riconversione. Non c'è altra strada. Il 20 gennaio intanto scadrà il termine per le proposte dei possibili acquirenti della Lucchini. Ai nomi che già circolavano, il fondo svizzero Clesch e l'accordata italiana Duferco, il segretario della FIOM di Livorno ne ha annunciata un'altra che verrà presentata al commissario Piero Nardi. Una società straniera interessata a tutto il complesso, compresa l'area fusoria, ipotesi gradita ai sindacati per i quali la priorità è non spengere l'alto forno. I lavoratori in ballo sono 2250 diretti e 1500 dell'indotto, tutta Piombino ruota attorno alla Lucchini. Una boccata d'ossigeno per la città potrebbe essere l'appalto di smantellamento della costa Concordia. Si deciderà a marzo in quale porto sarà portata la nave. Il problema, non da poco, di Piombino è che non sarebbe tecnicamente adatto. Ha iniziato a fare i lavori necessari, ma la domanda è farà in tempo? Le istituzioni mostrano fiducia.